Imparare attraverso la sperimentazione diretta sul campo, anzi, nello scavo. Questa la finalità dei laboratori presso il sito preistorico Lapineta di Isernia. Vietato non toccare il titolo dell'iniziativa. Quattro appuntamenti cadenzati ogni giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Ieri il primo step. Gli archeologi hanno spiegato come le nuove tecnologie informatiche diano un decisivo apporto nei lavori di scavo. I partecipanti sono stati guidati nell'utilizzo pratico di alcune apparecchiature. Un modo, crediamo, davvero efficace di fare attività divulgativa che consente ai partecipanti di rendersi conto e conservare nella mente qualche rudimento del complesso lavoro di ricerca all'incondotto. L'iniziativa, nell'ambito della nuova campagna di scavo, è promossa dall'Università degli Studi di Ferrara e si avvale l'apporto di enti e associazioni, tra cui la Soprintendenza per i beni archeologici, il polo museale e l'amministrazione provinciale di Isernia. Quello che è importante è far conoscere le attività che facciamo. Talvolta sono anche ermetiche, dure, quasi incomprensibili, difficili talvolta anche per noi spiegare, ma bisogna fare questo sforzo di divulgazione, di informazione, come è sempre stato fin dall'inizio. D'altra parte, proprio il padiglione dello scavo e il museo sono la testimonianza di questo sforzo che abbiamo sempre voluto fare. La riluanzia di questo sito è la completezza dei dati che ci possono dare per ricostruire la vita di un gruppo umano di 600 mila anni da oggi. È, da questo punto di vista, un unicum per l'Europa. Inoltre ha una quantità di informazioni sulle faune, sulle flora, sul paesaggio, in modo tale che non viene fuori solo l'attività umana, ma anche il modo in cui si rapportava con l'ambiente, la caccia, l'alimentazione, l'organizzazione degli spazi abitativi. Abbiamo un unicum, un deposito conservato in modo magnifico e vi assicuro che in Europa è uno per l'età così antica e forse l'unico. Certamente significativo l'apporto dell'Università di Ferrara per la creazione e la gestione scientifica del sito, ma sulla possibilità dell'approdo di una sede distaccata di quella università a Disernia, ipotesi questa più volte considerata, le perplessità del professore. È importante ricordare che non è tanto avere la presenza fisica quanto piuttosto la costanza della ricerca e dei risultati che mettono in un circuito internazionale i risultati e il luogo che tutti conoscono, che non viene maggiormente apprezzato perché qui casomai abbiamo 5 persone fisse, viene apprezzato per quel lavoro che le 5 persone, 10 persone fanno, indipendentemente da dove arrivano, da New York, piuttosto a Pittsburgh, Londra, Parigi, Tarragona e altre città. Grazie. Grazie.